e il 26 agosto del 2021 ci troviamo nel santuario di brognaturo che a giorni riproporrà questa meravigliosa festa alla madonna che si fa ogni anno da parecchio tempo questa sera i focari poi ci saranno anche i giganti da domani mattina alle 4 e mezza la banda che passerà per tutto il paese quindi anche domani mattina andrò a fare dei video guardate che meraviglia questa bellissima chiesa guardate che bella sa di profumato di genuino ma soprattutto sa di fede perché la fede è non solo a brognaturo ma in molti paesi del mondo la fede è il pilastro la base di tutti i valori della nostra vita quindi se si ha fede se si crede in dio si vive meglio guardate che meraviglia questa chiesa piccola chiesa ma alla fine con tanti fedeli devoti vedete questo è il quadro miracoloso della madonna fra un po inizieranno poi il giovedì prossimo le vedute come ogni anno lì in fondo e ci sarà un sacco di gente ovviamente rispettando le regolamentazioni anti covid di fedeli ne vengono tantissimi qua non solo in questa chiesa meravigliosa ma anche a brognaturo che brognaturo ha la festa più bella delle serre calabria lo voglio dire poi i brognaturesi sono persone molto accoglienti e ospitali perché basta entrare in paese e guardare la piazza che ha la forma di un grande abbraccio i brognaturesi sono fatti così ti accolgono sempre col sorriso e questo è veramente una cosa un dettaglio particolare che a me è sempre piaciuto adesso saliamo sul sagrato per farvi vedere per la prima volta come cambia la visuale perché fino adesso quando venivo c'era sempre gente non potevo venire dove sta il parroco vedete guardate che meraviglia la chiesa bellissima guardate anche la luce che entra dalla porta che esso chiusa se avessimo aperto tutta la porta poteva sembrare un crocifisso ma non il crocifisso lo vediamo qui guardate che meraviglia gesù che ha dato la vita per noi gesù che ha aperto le porte del paradiso gesù misericordioso che ci ama così tanto come nessuno mai ci potrebbe amare perché gesù è così misericordioso ci ama così tanto che ci perdona sette volte sette quindi gesù è un grande molta gente dovrebbe ispirarsi alla vita di gesù perché gesù non giudica gesù ci lascia nel libero arbitrio ci ama così tanto che ci dice fate quello che volete ma io vi perdonerò sempre perché siamo suoi figli tutti guardate che meraviglia quindi venite in questa chiesa ma il consiglio che vi do avvicinatevi alla fede perché la fede è grande la fede è avere fiducia in dio senza vederlo senza toccarlo quindi avere fiducia vuol dire vivere amando tutti vivere col cuore pensare agire non con la testa in modo istintivo ma in modo amorevole col cuore quindi se tutti ci trasformiamo cambiamo miglioriamo avvicinandoci a dio il paradiso potrebbe essere qui qui sulla terra potrebbe iniziare un nuovo cammino un nuovo paradiso io parlo così perché credo in dio perché dio per me è tutto ma soprattutto perché basta guardarsi attorno e vedere alberi basta guardarsi attorno e vedere tutto quello che dio ha creato per noi lo ha fatto per amore io di solito a quelli che non credono dico perché dio esiste perché basta anche ascoltare il vento il vento c'è ma non si vede ecco così è dio c'è tra noi ma noi non lo vediamo eppure c'è come il vento un saluto a tutti e gij da questo meraviglioso santuario speriamo che anche quest'anno venga un sacco di gente ad ammirare e a pregare la vergine maria ma soprattutto a godere di questo meraviglioso paese brognaturo a presto da gij grazie